Ed eccoci qua, eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre con il microfono e la cam accesi. Allora, è risaputo che nell'ultimo anno e mezzo i miei orari si sono completamente sballati, in tutti i sensi. Diciamo che sono saltati anche molti schemi mentali, organizzativi che avevo e gli argini emozionali, ok, sono stati travolti da ondate di tutto, ricordi, nostalgia, emozioni, paure, tote di cose. Insomma, l'espressione vivo giorno per giorno non è propriamente giusta, perché vivo notte per notte. C'è però un orario particolare di notte che esercita un fascino molto particolare su di me, e sono le due. Non importa cosa stia facendo, solitamente sono a casa, alle due, anche senza guardare l'orologio, esco, vado in terrazza a contemplare il nulla, a prendermi un po' dell'immensità, comunque di quello che ho davanti, ossia un cielo sgombro, un orizzonte senza limiti, silenzio e cose del genere. Devo anche essere sincero che sempre in quest'anno e mezzo anche molte altre cose hanno esercitato un fascino molto particolare su di me. La luna è un qualche manciata di stelle, perché penso sia la luna sia il fine ultimo, lo sguardo ultimo, prima di tornare dentro, si guarda sempre alla luna, perché la luna guarda sempre a te. C'è il silenzio, che esercita da sempre, ma soprattutto negli ultimi tempi, un fascino molto particolare su di me, perché penso che è nel silenzio che nasca tutto. Comincia a fare progetti, comincia a fare, ad analizzare comunque la vita, quello che stai vivendo, quello che hai vissuto, e soprattutto quello che potresti vivere. I ricordi, i ricordi arrivano sempre, durante tutto il giorno, però di notte, quando arrivano hanno la porta aperta, perché di notte non hai difese, non hai niente di notte. Di notte sei fuori, di fronte a nulla, e non puoi fare altro che lasciarli entrare, quei ricordi. Lo stesso dicasi della nostalgia. La nostalgia è un tratto, cioè, vorrei fare una battaglia legale per mettere il nostalgico nella mia carta d'identità, e so che potrei anche vincere questa battaglia. Lo sono sempre stato, e lo sarò sempre. Altre cose che esercitano un fascino particolare sono la pioggia, quando batte sulle finestre, magari quando sei a letto, ma anche quando non sei a letto. La pioggia che vuole entrare, il tichettio è rilassante, è una cosa che porta a pace. Lo scaldassonno esercita, da un anno e mezzo esercita un fascino particolare, prima non l'ho mai usato. Lo scaldassonno, letto ben caldo, al limite del bollente, e si dorme meglio. Le serie tv, quelle complete però, ok? Perché adesso, soprattutto adesso, hanno ricominciato a fare una cosa molto stile Rai 1, Italia 1 dei tempi andati. Mettono una puntata alla volta. Invece io ho bisogno, di quando comincio una cosa, di portarla fino alla fine. Sono sempre stato così. Mi dispiace lasciare le cose a metà, è una cosa quasi ossessiva, una delle tante ossessioni che ho. Quindi le serie tv complete, mi piacciono. Le rotonde, in senso filosofico però. Mi piacciono le rotonde, non in senso pratico, perché penso che durante il giorno le rotonde siano l'espressione della fine dell'intelligenza umana. Cioè è una cosa, è una guerra, entrare in una rotonda. C'è da farsi il segno della croce, per chi ci crede. Senso filosofico, perché le rotonde sono delle ruote. Mi dà l'idea che tutto va, tutto torna. Dopo mi dà anche l'idea, quando sei in una rotonda, che puoi scegliere dove uscire. Di contro però potresti passare mesi, anni, dentro questa rotonda, se sei insicuro. Se non sei paura, se non sei bene, che passi a fare. Altre cose che esercitano un fascino particolare sono le domeniche. Domeniche quando posso restare a letto. E allora al soffitto, c'è anche una canzone mia che parla del soffitto, fissare un soffitto che ha una sua storia come un piccolo cielo. Fissi un punto nel soffitto e ci costruisci una storia. Mi piace il rumore della macchina di notte, ma di finestrini aperti senti il rumore della macchina, quando chiaramente non c'è nessuno dietro. Perché di solito trovo sempre qualcuno che ha fretta all'una, alle due. Qualcuno che ha fretta. Il rumore dei treni, dei treni di notte fino a quando ero piccolo e sentivo il regionale che passava, anche se non era vicino a casa mia, sentivo un treno alle quattro e mezza, il rumore delle rotaie. che ha sempre l'idea di qualcosa che va avanti. E un'altra cosa che amo sono gli aerei, gli aerei che passano. Mi fermo sempre ad immaginare fino a quando ero piccolo la gente che è dentro l'aereo, gente che magari parte, gente che magari torna. Esercitano un grande fascino su di me le cose che vanno e vengono, gente che va, gente che viene. E la cosa che mi fa pensare è che gente che viene, gente che va, io alle due di notte sono sempre qua. L'idea di stare fermo ad aspettare, l'idea di stare fermo ad aspettare mentre il mondo comunque va avanti. Ecco, questo non è proprio una di quelle cose di cui andarne fieri, però alle due di notte, mentre comunque contemplo nulla, mentre c'è silenzio, mentre le porte comunque mentali, le porte del cuore, le porte sono aperte e uno permette, e permetto a molte sensazioni di entrare. penso proprio al fatto che comunque in questo va e vieni, questo andare, alla fine sono forse un po' troppo fermo, immobile. e buonanotte. E buonanotte. e buonanotte. E buonanotte. E buonanotte. E buonanotte.